6. Può fare segresti in area numero di testiera 958, Stenis Martin, in sella area francese a cavalli di sua proprietà. Due passi, e vai, non esagerare però, gamba sinistra, ok. Occhio ai centri. Pringi le gambe. Tolli gamba destra. Yeah! In centro. Yeah! Così! Stringi le gambe, tienila all'interno. Togli poi gamba sinistra. Yeah! Vai! Le! Con calma partiamo. Due passi. Sì. D'accordo si dirà del zero. Guardate. Drizzo. Yes! Con calma. Va. Il centro. La grezza. Sì. Con calma. Il marchio mi raccomando. Vai! 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 Yes! Con calma. Aspetta. Vai! 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 Via! Dai! 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 Diah! Aye! Va. Viva! Fa! Viva! Fa! concilia! Viva! C objetivo! Viva!